e ripartiamo con Max Londo sempre ma si è aggiunto col numero 716 Florian Trevelli con il Ford Trusted Highway Patrol Florian Trevelli con il Ford Trude Lunga rolling burnout per Florian Lui è una persona che ha molta esperienza nel drag racing 8 secondi e 26 per lui dichiarati il tempo non si riesce a mantenere questo tempo da lui dichiarato Lunga linea Grazie a tutti.